Torna il Festival della ricerca e dell'innovazione dell'Università di Foggia. Torna l'importante appuntamento che apre le porte universitarie alla città e pensa ai più piccoli del territorio. Gli eventi organizzati quest'anno, dal prossimo 28 maggio al 1 giugno, pongono al centro del programma un tema importante, sport, nutrizione e benessere, incoraggiando la riflessione e la sensibilizzazione di tematiche con finalità preventive e sociali. Oltre al tema portante, l'edizione 2018 manterrà la stessa mission, combattere la microcriminalità, la devianza minorile e la dispersione scolastica, raccogliendo fondi da devolvere all'amministrazione comunale foggiana per sostenere e implementare gli arredi di scuole periferiche, oggetto di atti criminosi e vandalici. Così come restano uguali i principali interlocutori di studenti delle scuole primarie e secondarie per gli eventi divulgativi, l'intera città per gli appuntamenti culturali. Il festival permetterà di conoscere e incontrare figure professionali che si occupano di benessere a 360 gradi. Tra gli incontri divulgativi troverà spazio anche la musica, ma il grande evento cittadino è certamente la partita di solidarietà che vedrà scendere sul campo dello Zaccheria la rappresentativa Magistrati Italiani, la Nazionale Attori Italiani e la Comunità Unifg. Direttori artistici del festival Pio e Amedeo, il duo comico che sta spopolando con il programma Immigratis sulle reti Mediaset.